Un caro saluto da tutto il team di ilmeteo.it. Vi abbiamo già annunciato l'arrivo dell'anticiclone africano Scipione che almeno per 10 giorni porterà sole e caldo sul nostro paese. Ebbene una prima ondata rovente, ma occhio perché questo anticipo d'estate potrebbe essere rischioso anche per i nostri amici animali che non possono proteggersi con gli occhiali o sventolarsi con un ventaglio ma che come noi soffrono la calura. Ecco dunque che vanno tutelati con le dovute precauzioni in modo da preservare la loro salute. Quando le temperature sono elevate e nei prossimi giorni si supereranno anche i 30 gradi in molte città è buona prassi evitare passeggiate nelle ore più calde, bagnarli spesso con un po' d'acqua e mi raccomando non lasciateli in auto al sole nemmeno per pochissimi minuti. Insomma l'Italia diventerà rovente, non fatevi cogliere di sorpresa e salvaguardate gli animali, ve ne saranno davvero grati. Arrivederci!